Domani alle 20.30 allo Stadio Adriatico Cornacchia scattano i play-off. Primo turno il Pescara impegnato contro il Ponte d'Era e Biancazzurri. Per accedere alla fase successiva basterà non perdere al termine dei 90 minuti. Non sono previsti supplementari e calci di rigore. Caso di parità passerebbe il Pescara per la miglior classifica nella stagione regolare. Assente da gasso, problema muscolare per il resto tutti a disposizione del tecnico Cascione che in mattinata ha parlato in conferenza stampa. Andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli. La squadra sta bene, sta bene. Dopo la partita di Ancona c'era il rischio di buttarsi un po' giù moralmente ma invece hanno capito benissimo che comunque è stata solo una partita sbagliata e a fermo abbiamo dimostrato comunque di esserci, di continuare su quella strada dell'attenzione, dell'equilibrio e siamo stati bravi anche in fase offensiva perché al di là dei tre gol siamo stati un po' più determinati e concreti abbiamo accompagnato meglio l'azione quindi è venuta fuori poi un'ottima gara è stata una settimana di grande concentrazione, ho visto ragazzi molto maturi sotto questo aspetto qui perché comunque sanno che domani c'è una partita fondamentale, decisiva e l'abbiamo preparata per quanto riguarda gli infortuni Matteo ha avuto questo problema e starà fuori per un po' di giorni quindi non sarà a disposizione per domani e poi il resto sono tutti arrolati, tutti convocati Sassà viene comunque da due settimane dove ha lavorato poco, dove ha avuto un problemino e quindi valuterò anche questa cosa qui fino alla fine, come ho detto si è allenato molto bene ma ha dimostrato di stare bene fisicamente soprattutto e poi a livello mentale è un giocatore che queste partite le sa affrontare, non c'è bisogno di dirgli troppe cose, sa benissimo l'importanza sa avere equilibrio e riesce anche comunque a guidare i compagni sotto questo aspetto qui quindi vedremo, Franchini e Tungio hanno fatto una grandissima partita li ho visti molto bene, specialmente Simone che aveva giocato poco fino a quella partita lì mi ha dimostrato di esserci, di avere comunque anche lui delle qualità anche mentali importanti deve migliorare magari sotto l'aspetto un po' difensivo, deve avere un po' più di attenzione però come ho detto l'ultima partita ha fatto molto molto bene Giorgi è un giocatore che sta crescendo, sta crescendo, anche lui ha avuto passo falso in casa con l'Ancona però come tutta la squadra sta dimostrando di volere il posto, di tenerci comunque, di lottare anche per la squadra ha cambiato totalmente mentalità rispetto a quando sono arrivato sono molto contento perché si è dimostrato maturo e ha capito comunque quali sono le sue qualità e quello che chiedevo io, quindi ci sono in quella posizione lì, sono giocatori su cui fare affidamento stessa cosa vale anche per Nino, per De Marco che è un altro giocatore un po' con le caratteristiche di Matteo un giocatore che ce l'hai sempre, che sai che comunque ci puoi fare affidamento sia se è inizio o se è in partita in corso quindi questo è un vantaggio molto molto importante anche perché ha delle caratteristiche diverse rispetto agli altri tre escluso Matteo che non sarà a disposizione Davanti voglio capire bene, devo parlare anche domani con Gigi capire se comunque un giorno in più riesce a farlo stare un po' più a livello mentale un po' più tranquillo comunque veniva da un problemino che l'ha fermato due giorni prima della partita e c'è da capire insieme anche allo staff se è il caso di farlo partire o no Sulla difesa, resto sul concetto vale sempre quel discorso che oramai ci sono delle gerarchie oppure anche lì ha dei dubbi, se sì quali? Io adesso queste partite come avete visto i due centrali non li ho mai cambiati perché comunque stanno dando grande affidamento stanno facendo molto bene riescono comunque anche tra di loro ad aiutarsi a parlare sì ho fatto un cambio ad Olbia ho dato la possibilità anche a Roberto di giocare poi dopo ho giocato anche quella dopo ha fatto molto molto bene però non voglio dire ho una formazione fissa è normale che se chi gioca gioca bene sta bene fisicamente, mentalmente non vedo il motivo per il quale cambiare si va avanti in quel modo lì poi ci sono giocatori che durante la settimana mi dimostrano che possono comunque far parte degli undici titolari ma questo è un altro discorso l'importante è che ci sia da parte di tutti un obiettivo comune lo stesso filo di pensiero in questo momento quello che mi interessa come ho fatto le altre partite è vincere la prossima fare bene la prossima fare bene con la squadra perché ne gioviamo tutti poi alla fine la giova la società la piazza le giovo io quindi bisogna lavorare bene per il momento per la partita che arriva sto poi ed è questo che è quello che stiamo facendo ci vuole grande entusiasmo non solo non dobbiamo arrivare alla partita con troppa attenzione ci vuole anche l'entusiasmo la voglia di sorprendere perché tanto sappiamo tutti che non sarà facile arrivare fino in fondo ma non è impossibile e queste sfide devono stimolare me devono stimolare la squadra devono stimolare soprattutto la città che per noi è molto importante così come i tifosi dobbiamo essere un tutt'uno questo è il mio pensiero e la mia speranza e la mia speranza